Le telecamere installate ne abbiamo sette fisse e tre brandeggiabili, perciò abbiamo tre che controllano tutto il perimetro 24 ore su 24 e tre brandeggiabili che in automatico dietro un movimento si orientano a vedere in piccoli particolari, le quali poi saranno collegate anche con i vigili di Fanno dove loro potranno da remoto controllare e verificare tutto il sistema. Le registrazioni sono per circa 24 ore, quelle naturalmente consentite per la legge e automaticamente dopo le 24 ore le registrazioni si cancelleranno in automatico senza lasciare nessuna traccia. Naturalmente infrarossi che vedranno di notte, ma in particolare abbiamo una telecamera che più che infrarossi sarebbe termica, una telecamera particolare che legge il calore della persona e in quel caso lì dopo un certo orario le telecamere brandeggiabili si orienteranno nel zona dove questa telecamera ha visto un movimento e darà una segnalazione ai vigili dicendo guarda che qualcuno dopo quest'ora sta entrando nel pincio e loro se vogliono possono controllare e verificare se magari è solo un turista oppure qualche altro vandalico che vogliono venire a fare. Ci sono telecamere un po' più o meno visibili, comunque naturalmente il perimetro è segnalato dai cartelli, la norma di legge che la zona è video sorvegliata, perciò chi viene qua sa che comunque deve stare attento, non deve fare un atto vandalico perché comunque ti vengono poi a trovare a casa, ecco tutto fa.